Quelle che vi mostriamo sono immagini che ovviamente non vogliono coinvolgere in nessun modo l'intero corpo dei vigili urbani di Catania che nella stragrande maggioranza è costituito da professionisti efficienti e di assoluta moralità. Quello che vi mostriamo è invece il comportamento di una vigilessa divenuta in poche settimane piuttosto famosa a Catania per la sua assoluta inflessibilità. Sono stati molti gli automobilista di incappare nel suo rigore, nessuna tolleranza anche di fronte allievi in frazione. Giusto, in una città come Catania, dominata dal malcostume e dalla mancanza di senso civico, una sana azione di rigore può anche starci bene. Solo che a tale rigore, nei confronti degli altri, dovrebbe sempre corrispondere un comportamento altrettanto rigoroso da parte del tutorio dell'ordine. Invece, ecco che cosa accadeva ieri, poco dopo le 14, in via Bicocca. Siamo in una zona di assoluto divieto di fermata, chiaramente contrassegnata dal cartello, ma si nota una panda di colore verde posteggiata in barba ad ogni norma del codice stradale. Sul parabrezza, nessuna multa. Poi, ecco apparire il proprietario, anzi, la proprietaria. Sì, è proprio l'inflessibile vigilessa a terrore degli automobilisti catanesi. Arriva tranquillamente alla sua vettura, come se fosse posteggiata regolarmente. Apre lo sportello, si leva il copricapo d'ordinanza e tranquillamente mette in moto e va via senza vergogna. Viene da chiedersi cosa avrebbe fatto la signora se avesse visto un'altra vettura nelle medesime condizioni. Siamo certi che carroattrezzi e multa sarebbero stati inevitabili per tutti, ma ovviamente non per lei. Sarebbe interessante sapere cosa pensano di un simile comportamento il comandante del Corpo dei Vigili Urbani e il nostro sindaco.